Svvvvvoovento Dov'è il campo dell'estramento? Hey, where the hell you goi? Ah, è qua! Combatti bene ca o giannazzi ma il segreto suggestamente è imparare a quello del potere delle fugiche Usare questa magia su un avversario al momento giusto è il punto difficile del battaglia Mostrarò come si fa ma prima dovrai setta porte a un giuramento promettete che mai e poi mai scorreggerei sulle palle di qualcuno scorreggiare sul nemico è necessario ma scorreggiare sulle palle non si fa capito? va bene diamo a vieto il destramento l'urlo del drago adesso non ce la faccio a leggere ora tu, pronti? vieni la frequenza guarda, trova la frequenza, va dai guarda, guarda no, sbagliato non devi trattenerla bella vi mostrerò un'altra volta sottola in e lascia rimbler ora tu, pronti? ma scorreggia no va bene dai ah si, devo tenerli di più ok no 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 spettacolare no 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 Grazie.